Non è solo un ato sportivo, diventa quasi meditativo. Il percorrere, il perdersi, per questi sentieri, per questa natura. La fatica è un atto indispensabile. Una questione con cui confrontarsi. In questa stagione, l'odore dei fiori, delle piante, crea sensazioni uniche, capaci di trasportarci via. Questi sentieri pietrosi, che paiono così in ospitali, sono in realtà un ottimo rifugio alla consuetudine, alla noia, alla banalità, di ciò che quotidianamente ci circonda. Questi luoghi silenziosi permette di mettere ordine tra i pensieri, di porre al loro posto le idee. così che si possa vedere con occhi diversi, così che si possa pensare con le proprie idee. tracce che finiscono le une sulle altre, fino a portarci davanti a scenari inattesi. bellissime. Bellissime. Spazi infiniti, che difficilmente siamo abituati a immaginare. a tutti.